Sale la febbre del derby in Casarezzo. Mentre gli Amaranto sono al lavoro sul campo della nave, in città viaggia a ritmo più che sostenuto la vendita dei biglietti per la sfida di sabato contro il Siena. Non è da escludere, anzi, è molto probabile che la quota dei 2.500 spettatori raggiunta con il Como venga abbondantemente superata. Intanto Stefano Sottili ha proseguito nel lavoro di avvicinamento al derby. Il tecnico Amaranto non ha fornito indicazioni sui giocatori che scenderanno in campo dal primo minuto. Da una parte infatti Sottili ha schierato nell'allenamento alla nave una squadra con i dettami tattici del 3-5-2 utilizzato dal Siena, mentre dall'altra è con 4-2-3-1. Segnale più che evidente che il tecnico del Cavallino non virerà sul 4-4-2 proposto a Carrara nella ripresa. Paolo Grossi quindi tornerà alle spalle dell'unica punta Moscardelli con Yanga, uno degli ex della partita, e Arciliacono sugli esterni. A centro campo è scontata la conferma di Corradie Foglia, mentre in difesa non è da escludere un posto da titolare per Sergio Sabatino. L'esterno ha scontato le due giornate di squalifica ed è quindi a disposizione del tecnico. Difficile invece che Giuseppe De Feudis possa prendere parte al derby. La convocazione è probabile, l'impiego un po' meno, il mediano si è allenato con il gruppo svolgendo un lavoro atletico e tecnico, salvo poi saltare la partitella per seguire un programma personalizzato. La rifinitura al città di Arezzo sarà a porte chiuse, lo stadio comunale sta cambiando anche volto, il manto erboso è stato rigenerato e pettinato a scacchi per un colpo d'occhio inedito dall'alto. Novità anche per l'ingresso in campo delle due squadre, visto che la scalinata di accesso al terreno di gioco non sarà ricoperta da una tela cerata ma da una copertura trasparente in plexiglass.